Buongiorno a tutti, ringrazio ovviamente i relatori, i colori che interverranno ma anche il pubblico, oggi così numeroso è venuto ad assistere a questo seminario che abbiamo organizzato insieme alla società per le persone e comunicazioni con un obiettivo direi principale e un obiettivo natale, quello principale è di presentare un bel volume che trovate qui anche fuori, il condice delle comunicazioni elettoriche commentato da una serie di autori che è coordinato dal consigliere Contessa e dall'avvocato del vecchio e che a distanza di molti anni è l'unica opera analitica di commento al codice di comunicazione elettoriche. L'altro obiettivo è di stringere generalmente i regami tra l'Università Pellegrino Seconda della società per le garanzia e comunicazioni, i regami di consulità, riesce dalla sua istituzione non dell'Università Pellegrino Seconda la società un po' fecchiotta, è un legame che ha comportato una serie di iniziative congiunte, di condegni, seminari ma anche di scambi di docenza, scambi di studenti, di stagio, molti ragazzi che per io andeto qui non molto tempo fa erano nostri studenti, quindi siamo molto fieri di contribuire anche con le nostre piccole forze all'attrazzamento, al punto di vista della compagina utilità dei giuristi della autorità. Il tempo a disposizione non è tantissimo, in realtà mentre i relatori sono tanti, le relazioni saranno molto impegnative e aggiornatissime su una serie di questioni attualmente all'attenzione dell'autorità, questo è un momento particolarmente ricco di novità, poche settimane fa la pubblicazione dell'Unione Europea del nuovo codice europeo delle comunicazioni elettroniche, ci hanno un po' copiato il Presidente, come le stime anche nell'altro contributo al volume, questo è una nostra iniziativa il codice, poi i genosoni dell'Unione Europea hanno pensato di replicare questa idea, quindi non parte di scherzi, è una rifusione delle direttive che sono alla base della direttiva degli anni Ottanta, della disciplina europea delle comunicazioni elettroniche che sottoporre le direttive e chiederà nei prossimi mesi un lavoro non banale di animamento della disciplina interna, quindi di revisione nota del nostro codice europeo. La prima parte di questo convegno è dedicata ai interventi di saluto, ai interventi di presentazione e direi che è il caso di cominciare subito, siamo in attesa, dall'arrivo del lettore, ma ho già qui vicino a me, alla mia destra, il direttore del dipartimento, il professor Sanzo Stagliano, a sui cerchi molto corretti e comunque, grazie.